Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. In questa puntata di oggi parleremo degli elementi chiave per fidelizzare il personale e cercheremo di capire come attrarre e trattenere i talenti, soprattutto in questo periodo dove prevale soprattutto il lavoro da remoto a causa della pandemia. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento che saluto partendo dall'avvocato Paola Gobbi, partner dello studio legale Unilex Stucche Partner. Ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti. E saluto anche il dottor Francesco Caccavo, HR Director di Douglas Italia. Ben arrivato anche a lei. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, io partirei dall'avvocato Gobbi. Dunque, per la fidelizzazione del personale è un elemento, sicuramente fidelizzare il personale è un elemento strategico, chiave, soprattutto per la crescita della produttività aziendale. Dunque, quali sono gli strumenti, se vogliamo dire così, a disposizione delle aziende, del datore per non perdere le risorse a disposizione? Allora, la tematica è sicuramente molto interessante, molto attuale, visto il quadro complessivo. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono strumenti che devono essere letti un po' come un investimento a garanzia di un po' tutto il processo di selezione e di individuazione del personale all'interno delle aziende, perché ben sappiamo che ci sono anche dei costi di selezione, dei costi di recruitment, dei costi di turnover. Onde evitare anche questi tipi di costi o ottimizzare la loro riuscita può essere sicuramente interessante capire come fidelizzare i dipendenti. E un primo strumento può essere uno strumento di carattere non economico, perché si può pensare ad esempio alla mobilità interna, che è qualcosa che consente di shiftare i dipendenti rispetto a mansioni che gli consentano di avere un quadro più globale di quelle che sono le attività aziendali e dall'altro lato gli consente anche di soddisfare eventuali loro desideri, di avere una professionalità un pochino più piena, un pochino più rotonda, di svolgere mansioni meno rutinarie. Un altro strumento molto utile è l'attività di formazione interna, che anche questo consente sicuramente di crescere ai dipendenti all'interno dell'azienda e dall'altro lato consente all'azienda di fornire tutta una serie di strumenti e di nozioni utili alla produttività e al processo aziendale. Questo è vero che può essere un po' un'arma a doppio taglio, perché un lavoratore formato, ben costruito, con delle nozioni anche all'avanguardia e sempre aggiornato è sicuramente ricco di competenze. Però abbiamo visto che nell'arco dei tempi un po' la storia ci insegna negli ultimi periodi, dove molto spesso le aziende utilizzano lo strumento della formazione facendo crescere un po' giovani talenti, cioè l'istituzione di una scuola di formazione interna, collaborazioni con le università, con vari istituti. Questi consentono di far sì che il processo formativo sia un processo un po' telorizzato, dove di fatto la risorsa è un po' costruita a misura su quelle che sono le esigenze aziendali, quindi da un lato fidelizza, perché fa costruire la professionalità del dipendente, dall'altro lato evita che possa essere una competenza un po' più trasversale e facilmente rivendibile sul mercato, una volta che il soggetto è formato. E poi possiamo avere degli strumenti di carattere economico, quindi che comportano un costo per il datore di lavoro, che possono essere tutto il mondo dei benefit, dei benefit del welfare aziendale, ad esempio, dove il fatto di fornire un'autovettura, delle polizze assicurative, degli sconti, un contributo per la casa piuttosto che per la scuola dei figli, è sicuramente, possiamo dire, un pacchetto complessivo che crea un rapporto saldo tra l'azienda e il dipendente. E da ultimo, forse quello che poi è lo strumento più classico, mi viene da dire, che è un'eventuale quota incentivante, cioè tutta una parte di bonus che possono essere erogati con modalità tali da consentire che i dipendenti restino in azienda per un determinato periodo di tempo. Il meccanismo può essere sia un pagamento dilazionato e allungato nel tempo, per cui magari i dipendenti che vengono dedicati a particolari progetti, a delle attività che magari hanno una durata temporale circoscritta nel tempo, il fatto che il bonus sia spalmato anche oltre la durata di quel progetto fa sì che il dipendente permanga anche nel periodo successivo. Oppure viceversa, nel momento in cui si vuole premiare comunque un dipendente, ma si vuole anche garantire una certa stabilità del rapporto, si può pensare ad un'erogazione in forma anticipata e un eventuale obbligo restitutorio nel momento in cui il rapporto dovesse cessare prima della scadenza di un certo periodo di tempo. In questo modo ci sarebbe sicuramente un effetto di disincentivo al dipendente di andare via prima di un determinato periodo. Quindi direi che forse questi sono gli strumenti più utilizzati per fidelizzare i dipendenti. La ringrazio, un po' anticipato anche un'altra domanda che poi le vorrei fare, ma poi la vediamo in maniera molto velocemente successiva, dopo l'intervento del dottor Caccavo, al quale a questo punto chiedo leadership, parliamo di leadership della gestione del personale, come sta cambiando, come è cambiato, come cambierà? Allora, la leadership c'è una vecchia frase che ormai è famosa, che è parzialmente vera, che è quello che le persone cambiano lavoro non tanto per le aziende, ma a seguito dei propri capi. Dico parzialmente vera, ma in realtà leadership era, è assolutamente importante a oggi e ancora di più lo sarà in futuro. Questo perché? Perché le persone ovviamente cambiano, come dire, gestiamo nuove generazioni, quindi nuove persone che hanno interessi diversi, anche scale valoriali completamente diverse dalle nostre e ovviamente già questo fa parte un po' del DNA di ogni direzione delle risorse umane. A maggior ragione in questo periodo, purtroppo con il Covid, di fatto c'è stata un'accelerazione nei processi di cambiamento organizzativi. C'è da dire che la leadership che stiamo applicando in questi mesi è una leadership, lasciatemi una definire, un po' di emergenza, perché siamo stati costretti a reinventarci in pochissimo tempo, costretti a modificare, dall'oggi a domani praticamente, modelli organizzativi, modalità di lavoro, modalità di interazione personale, assegnazione dei compiti, verifica dei compiti stessi in pochissimo tempo. Quindi il Covid non è introdotto un anno di nuovo, ma sicuramente ha accelerato, ha schiacciato un po' il piede sull'acceleratore. Cosa ci aspetta dopo? Quella sarà l'importanza della leadership e la necessaria, come dire, necessità di appunto evolvere da questo punto di vista. Il fatto è che concetti come lo smart working, ad esempio, saranno sempre più presenti nelle realtà aziendali. La necessità di seguire le persone, di farle crescere, quindi di implementare dei processi di sviluppo interni di un certo tipo. La capacità di gestire persone in remoto e di valutarne il proprio lavoro. Una nuova leadership che anche si appoggerà su strutture sempre meno gerarchiche, per come noi siamo abituati ovviamente a intendere le strutture gerarchiche, ma che sarà un pochettino più cooperativa, collaborativa, molto più aperta. Quindi una valutazione anche delle persone è che non sarà basata solo sulle ore di lavoro, che oggi è anche un po' una necessità normativa, perché di fatto noi viviamo ancora in quel contesto normativo, ma che si baserà sempre più sulla qualità e meno sulla quantità. Non le nego che questo avrà un impatto nel medio e lungo termine anche sul concetto di lavoro dipendente, perché ovviamente il concetto di smart working, per come molti lo intendono, è sempre più vicino quasi a un concetto di lavoro, comunque direi di contratto parasuppordinato o addirittura autonomo. Quindi ci saranno tante modifiche, tante innovazioni, tanti cambiamenti, alcuni si riuscirà a farli, altri meno. Però è evidente che ci sarà la necessità da parte di direzioni di risorse umane strutturate, credibili soprattutto, in grado di guidare questi cambiamenti e di fornire alle persone che coordinano e gestiscono altre persone, di fornire loro gli strumenti, queste nuove modalità lavorative, organizzative, di performance, tutta una serie di elementi che in parte oggi venivano compensate dall'attività in presenza e che un domani invece dovranno tenere conto di un aspetto, anche un pochettino se vogliamo, più obiettivo, perché è ovvio che venendo sempre meno quella relazione anche un po' diretta e anche forse un pochettino discrezionale, ci si sposterà sempre verso aspetti più obiettivi, più oggettivi anche. Quindi cambierà tanto, cambierà tanto e credo sarà la sfida dei prossimi anni, già dei prossimi mesi credo, ma anche dei prossimi anni per ogni azienda che voglia, ovviamente sarà passo del mercato, sarà passo ovviamente dell'innovazione anche tecnologica, quindi come dire, supportare questi cambiamenti che sono anche di trasformazione digitale a loro volta, quindi sarà assolutamente fondamentale per le aziende seguire questo flusso. La ringrazio, dunque come già ho anticipato prima vorrei ritornare un attimo dall'avvocato Gobi alla quale chiedo appunto a proposito di personale strategico quali sono, se ci sono in maniera, ecco elenchiamoli un po' velocemente, già mi ha risposto un po' prima, degli accorgimenti contrattuali per cercare di trattenere, disincentivare le dimissioni da parte appunto di questo, del personale o dei dipendenti considerati strategici chiave per un'azienda. Ma allora gli strumenti che diciamo classicamente sono i più utilizzati, al di là appunto dell'accenno al prima, il tema del bonus, ma quello serve anche per fidalizzare, per trattenere più che per disincentivare l'uscita. Innanzitutto possiamo pensare a quello che è il patto di stabilità o di durata minima del rapporto di lavoro, cioè nel momento in cui si vanno ad assumere delle risorse che vengono individuate come strategiche, ci si può accordare con il dipendente per la sottoscrizione di un accordo dove le parti si impegnano, il dipendente o reciprocamente anche l'azienda, a non recedere dal rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo. Allora questa struttura ha sicuramente un vantaggio perché consente di in un certo senso potremmo dire quasi blindare il dipendente e normalmente a garanzia del fatto che questo patto sia rispettato le parti concordano, prevedono nella patruzione un eventuale penale per l'inadempimento. Qual è il vantaggio della penale? La penale è una forfettizzazione del danno, cioè tutte quelle complicazioni e quelle difficoltà che sono collegate a dover provare il danno effettivamente subito dall'azienda in caso d'uscito del lavoratore con l'introduzione di una penale abbiamo una forfettizzazione del danno, una penale che possa essere ad esempio anche di un importo comunque considerevole, ovvero diciamo non irrisorio, è sicuramente una penale che disincentiva i pensieri del lavoratore di lasciare l'azienda e queste patruzioni sono riconosciute valide dalla giurisprudenza e da un lato prevedono l'erogazione di un corrispettivo oppure, e anche su questo la giurisprudenza che è sorta con il famoso caso dei piloti e delle compagnie aeree, prevedono come corrispettivo ad esempio anche l'attività di formazione, cioè dicevamo tutti quegli strumenti e come diceva anche il dottor Caccavo, tutto quell'impegno che anche adesso bisogna dedicare, utilizzare per comunque creare un percorso nuovo, dare delle competenze nuove al personale, tutti questi investimenti possono essere anche il ritorno per degli impegni da parte dei lavoratori a rimanere in azienda per un certo periodo di tempo. Un altro strumento può essere quello del prolungamento del patto di preavviso, che è uno strumento che nasce soprattutto nel settore delle banche assicurativo dove ci sono delle previsioni del contratto collettivo che aveva lasciato aperto i termini di preavviso e quindi consentito il prolungamento, legando così il dipendente nel momento in cui dà le dimissioni non è un divieto di recesso come per la stabilità, ma il fatto di dover rispettare un preavviso più lungo che consente al datore di lavoro di affiancare alla persona una nuova risorsa e quindi avere un passaggio di consegne effettivo e tutelare le competenze e dall'altro lato invece prevede che il lavoratore sia un po' meno appetibile sul mercato proprio perché con un preavviso così impegnativo è un pochino più difficile, sicuramente più difficile ricollocarsi. La ringrazio, abbiamo proprio una manciata di minuti prima di chiudere questa prima parte di doppio binario, un'ultima domanda velocemente al dottor Caccavo. Ecco, visto che siamo in questa fase ancora di pandemia, ne stiamo fortunatamente uscendo, almeno speriamo veramente di farlo il prima possibile, speriamo arrivino ovviamente quanto prima i vaccini. In questa fase si lavora soprattutto prevalentemente da remoto, visto che stiamo parlando anche di pacchetti di iniziative da mettere in campo da parte delle Ciar, quali sono questi pacchetti di iniziative per cercare di attrarre e far crescere talenti? Sì, molto velocemente, allora le politiche di attraction dei talenti sono politiche di medio e lungo periodo perché inevitabilmente poi hanno varie origini. Consideriamo che il lavoro in remoto già oggi ha impattato fortemente anche sul lato umano oltre che professionale delle persone che spesso, anche perché non è stata una scelta, è stata una forzatura, per cui di fatto, come dire, molti l'hanno subita. Pensando ai giovani la cosa ci preoccupa un po', cioè giovani a maggior ragione poi giovani talenti. Già oggi, ripeto, rileviamo che ci sono anche grossi problemi, anche di carattere psicologico, legati ovviamente allo stress, alla condizione spesso di disagio di questa attività lavorativa. Servono idee chiare, questo è sicuro. Anche qui la direzione personale ha il compito di mettere in campo tutta una serie appunto di attività e di protocolli, sia organizzativi che formativi, per far sì da avere, come dire, questi percorsi chiari e definiti per questi giovani, per evitare che loro si sentano fondamentalmente esclusi dai progetti tagliati fuori, anche da quelle dinamiche che chi ha una maggiore seniorità in azienda un po' l'ha già fatta sua, però è evidente che le nuove leve che entrano al lavoro, a maggior ragione e alto potenziale, avranno un'enorme difficoltà a sentirsi parte di una squadra, a condividere una visione, ad esempio, e a sentirsi parte di un team. Quindi io credo che ci dovrà essere da parte delle aziende sicuramente una maggiore integrazione anche con le scuole, con l'università in particolare, ad esempio, con modelli più integrati, dei modelli organizzativi che prevedono sicuramente il lavoro da remoto, ma anche quello in presenza, soprattutto per i giovani, che probabilmente più di altri hanno forse anche la possibilità di poter spingere sull'acceleratore, soprattutto nei primi anni della loro vita professionale, una mobilità trasversale, che citava anche l'Avvocato precedentemente, che consente di fornire una visione professionale, quindi un incremento di competenze che va al di là della specifica specializzazione del singolo e sicuramente arricchisce molto i giovani che sono molto affamati di conoscenza, molto affamati di conoscere anche il business nelle sue varie dinamiche e percorsi di sviluppo basati ovviamente sulle reali performance in affiancamento, ovviamente a percorsi ad esempio di mentoring o altro per far sì che siano accompagnati eseguiti nel migliore dei modi. Oltre a una cosa importantissima, dell'ultima, che è quello di processi di comunicazione interni assolutamente strutturati, trasparenti e di alto livello. Solo in questo modo, non solo nel periodo di emergenza ma anche dopo, l'attività in remoto potrà essere conciliata con l'attività in presenza, non mortificherà percorsi di crescita soprattutto dei giovani e secondo me fornirà anche quella visibilità e quella trasparenza necessaria nel mondo aziendale oggi. La ringrazio, ringrazio il dottor Caccavo, HR Director di Douglas Italia per questo suo importante intervento. Ovviamente saluto anche l'avvocato Paola Gobbi dello studio legale Uniolex Stucche Partners, grazie anche a lei. Grazie, grazie a voi. Ovviamente con l'avvocato poi ci ritroveremo qui anche per la seconda parte di Doppio Binario, adesso pochi minuti di pubblicità e poi rientreremo qui in studio. A tra poco.